e non ci vuole dovranno pure rientrare di qualche cosa anche loro anche il Milan ha presentato la nuova maglia peccato che abbiano sbagliato il nome di un giocatore e hanno scritto Chalanoglu con l'H ovviamente succede però ho capito però già l'errore ci sta non siamo solo noi l'invisibile che non li ha visti nessuno e quindi l'H ci stava l'hanno messo perché vabbè dai parliamo un po' di Ronaldo dopo dai tra un po' ne parliamo parliamo un po' in giro le cose eh vabbè ho capito non dire niente tutti i passi per RDS ci siamo ma perché vogliamo ricordare chi siamo cadiamolo vai cantiamoci addosso vai Rossella Brescia Maticolucci Ciccio Valenti Claudio Canitaro vabbè dai ci siamo tutti siamo felici perché? perché vogliamo cantare perché siamo pronti per ogni sorso e da oggi provala anche 3 ml al pezzo consigliato di un euro ehi Max sai che su Ford Google hai fino a 7456 euro con centri di estate Ford ma però sono i giorni migliori ad acquistare la tua nuova auto ma quindi niente a vacanze? ma che? hai anticipo zero prima rata a tre mesi paghi a settembre? eh già la mia musica come voglio sentirla io da experte con lo smartphone da 6 pollici face unlock per bloc foto perfette in ogni condizione di luce a soli 199,90 euro ti regaliamo le cuffie JBL da Conad trovi i prodotti indissensabili a prezzi bassi e fissi fino al 31 agosto come il prosciutto crudo freddi e convenienti Conad da 100 grammi a solo un euro non venire a trovarci e anche scoprire che da noi oltre le cose ci sono le persone Conad persone oltre le cose doppi saldi i doppi ris per cento fino all'ulteriore 40 per cento e paghi in 36 mesi senza interessi in più solo fino a domenica 1500 divani penisola a soli 199 euro oltre le soffà artigiani della qualità informazioni europee di base sul credo consumatori disponibili tra questi negozi salvo approvazione dei finanziari Secondo tentativo della può surrendere in inglese ricorderete 2005 sentò la svolta nel mercato o meglio di entrare però ebbe dissidi dissapori con la casa di grafica americana la porta se ne tornò in Italia ha dichiarato da lei e non mi sono mentato niente ringraziamo gli ascoltatori che comunque mi hanno suggerito il testo di battito animale all'inizio sarà non 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 passa grazie ti devo fermare avrei detto il tuo infatti ti ho tremato per un potevo anche andare non è un paese per giovani nome opel carl rox per la vita strapparsi via le notte se anche chi pot è ho visto padre figlio mangiarsi il portafoglio se per un pote divino ho visto un prego in rival mano per le notte per le notte per le notte Grazie a tutti.